Siamo qui, di nuovo Ark. Cos'è, la terza, quarta volta che lo vediamo sul canale? Partiamo da Easy? Sono un gigante incredibile. Eh, che cos'è? Aia, prude, prude. Allungando la mano, tiro su robe. Ah, vedi? Comodo. Bentornati su Ark. Bon, credo che più alto di così non si possa fare, esce anche dall'inquadratura, e lo chiamiamo. Hola. Ed eccoci di... Eh sì, sempre il prurito, a posto. Come ogni survival che si rispetti. Per quale motivo dovrei utilizzare questa inquadratura per giocare? Non ho voluto esagerare con la personalizzazione, me lo sono fatto solo alto, a quanto pare troppo. Come al solito, il nostro bel simbolino che ci prude. Livello disponibile, accedi all'inventario per applicarlo. Mamma mia, che bel messaggio, grazie, sì. Vorrei aumentare... Che voglio aumentare? Ho avuto un'epifania. Basta tenere premuto la E e correre su Ark, e lui raccoglie. La tua lancia si è rotto. Abbiamo fatto anche il server con i sub. Qualcuno ha visto la Carla? Il problema è che non ho capito. Nonostante abbia fatto anche un video su Atlas e il gioco dei pirati, ovviamente abbandonato e lasciato lì a morire, nonostante i vari e continui problemi di Ark e i continui DLC, io veramente non capisco perché si è uscita questa remastered, Ark Survival Ascended, che è lo stesso gioco, però rivenduto a prezzo pieno. E chi aveva la versione precedente? Vabbè, si incula e lo ricompra. 40 euro. Che per carità, non è 80, però, ma Ark 2? Ma è per questo che io sono qui, per provare questi titoli in modo che non dobbiate farlo voi. E quindi, Ark, ancora una volta. Ah, minchia. Va bene. Quanto menù da free to play? 72, no? Lo vorrei al 100%, grazie. Finestra senza bordi, sarebbe meglio schermo intero. Come Advanced Graphic Media. Tutto epico, scusami. Comprato un gioco apposta per il cambio grafico. Tutto al massimo. Questo che bello popola oso. Asia, no. Magari posso settarli per... Scusami. Sono già in ordine di ping? Perché clicco ping e peggiora la cosa? Come è possibile? Come funziona questa lista del ping? Comunque, per qualche motivo, l'Asia PvE The Island 5232 ha 13 di ping. Entera. Ok, scusa. Ci riprovo? Vai. Allora, andiamo a vedere in Europa? Che ha molto più ping. Certo, giustamente. Sta funzionando. Giustamente. Scusa, 57 su 70 server pieno? Tutti server pieni. Vai. Inizio a pensare che sia un bug. Va bene, allora facciamo che... Lo creo io. Giocatore singolo. Vai. Creiamoci il nostro personaggio. Oh, che bella questa patina che mi copre tutto. Bravi. Ottima illuminazione. Mentiamo spudoratamente sul nostro stato fisico. Beh, la customizzazione mi sembra abbastanza in linea con l'altro. Certo che potevano mettere due capigliature in più. Qui. Che è la zona un po' più safe. Che paura! Non lo so, signore. Ma è Cortana? Qui adesso c'è anche un... Un'intraname... Un'intramame... Come si dice? Un'introduzione alla trama. Non dirmi che adesso si alza e si gratta il braccio con il prismino. No. Prima, grazie. La telecamera ce l'ha tra i capezzoli. Oh mamma come non gira bene. Con calma. Risolviamo questa luce per favore. Un po' meglio. Non ho fatto un niente. Fa piacere però vedere che sono rimaste le scritte al neon. Ma questo menu è identico. Anche con il personaggio che non ci sta nello schermo. Vabbè. Accetta. Lancia. Al di là dell'illuminazione esagerata, mi sembra identico. Il miglioramento grafico si vede. Hanno semplicemente rimpicciolito le scritte. Fatto bene. Classic survival old school. Tini premuto E e cammini. Certo, sto raccogliendo della roba che se non ho mai giocato a Dark... Boh, cibo. Tiè. E poi iniziamo anche a farci vestiti. Che girare nudi non è che vada proprio bene. Prendiamo del legno. Adesso non è che si fa un livello ogni mezzo secondo però. Quanto sangue perdo? E mi sembra un attimino esagerato visto che sono costretto a farlo. Creazione. Facciamoci il piccone. Non posso? Non ho paglia. E non ho sassi. Giustamente. Colpa mia. Questo sasso lo posso prendere? No. Questo? 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 No. Ci sono alcuni sassi che possono essere raccolti. Altri? No. È pieno di sassi, eh. Però... Un aquilone gigante. Bellissimo. Come fa a volare così verso l'alto? Ci sarà una forte corrente ascendente. Questo sasso lo posso prendere? Non lo posso prendere. Vabbè. E allora prendo a pugni il muro finché non mi dà un sasso? C'è sempre questo effetto blu ma agghiacciante. Oh, una cassa? Avrà gradito un sottotitolo. Ah, praticamente i salmoni c'hanno i denti, mordono la vittima che perde il sangue e vanno più lento. Sì. 104. Com'è possibile? Volevo la clava di legno, ecco qua. Che mi serve poi per tamare i dinosauri. Ho sbloccato tutto il gioco, praticamente. I tamburi, che belli. Fibra. Ok, vestiti sono in microfibra. Almeno smettiamo di girare in mutande. Ecco qua. Belli che mai. Come ho fatto a raggiungere il livello 15? Sto giocando a due minuti. E ancora non ho raccolto un sasso, vorrei dire. È pieno di sassi. Che sassi è che vuole? Raccolto qualcosa. Un sasso. Attenzione. Ah, ho iniziato a trovare i sassi giusti. Che non so quali siano, però... Questo? Non avevo fatto niente. Poi boh, ho raccolto dei sassi, quindi... Oh, cazzo, mi serve l'altra paglia e della selce, giustamente. Però noi adesso abbiamo il pikaki. E con il pikaki possiamo ottenere paglia e selce, spero. Ah, bello, sempre il giochino di mano. Chi è? Ecco la selce. Sono in endgame. Questo è un altro livello. È identico. È un altro livello, però. Io non me lo ricordo così, sì, è l'inizio di Ark. Poi, magari sono io. Provavo a infilarmi nell'entroterra. Dodo? Maschio Dodo. Beh, è durato molto. Ciao! Sono veramente facili. Hai ucciso Killed? Ho letto bene. Un listrosauro. Maschio. In amore. Bello, molto carino. Complimenti. In realtà, volevo anche tamare una creatura. Però non sta accadendo. Cioè, non sto trovando una creatura tamabile. La parte è quella a fare lì, ma mi fa un po' schifo, insomma. Che paura, che sei? Aia! Ma ce l'aveva con me? Ma sì, ce l'aveva proprio con me. E mi hai inculato le bacche! Bastardo! Explorer Note. Carne pregiata? Ah, pregiata! Cotta e pregiata! Addirittura! Il signorino! Guarda com'è carino questo! Oh, la mappa mi sembra un po' più bellina da vedere. Ripeto. Il gioco è... 101. È migliorato graficamente, ma... Ciao, piccola scimmietta! Io non so, sto facendo livelli a caso, proprio. Ah, un buff, ecco qua. Ah, exp quadrupla. Perché? Ah, perché ho trovato la nota! Ok. Ha freddo adesso. Cazzo c'hai freddo? T'ho vestito tutto. Ciao! Come posso farci amicizie con lui? Perché più due? Che vuol dire più due? Che vogliono da me? Aiao! A stronzi! Vediamo se riesco a enclavarli. Piano, piano! Troppi! Troppi! Oh, cazzo veloci, cazzo! Eccolo là, lo sapevo! Ah! Mi ha ucciso una raptor. Ha senso fare questo giro? Adesso freddo. Chi mi mozzica? Guardate i salmoni! Madonna! Cazzo, ci sono ancora i raptor, però. Aiuto? Aiuto, sì! Aiuto, sì! Non riesco a leggere! Eh, che cazzo! Recuperato. Però io volevo tamare una creatura. Cosa sta succedendo a quest'acqua? C'è un po' di risacca. Ciao, bel tartarugone! Livello 7. Capitana, no! E basta, voi altri! Che rottura di cazzo! No! 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 E dai! Che è? Ok. Com'è successa questa cosa? Seguimi. Non ho capito. Però, ok. Forse il gioco ha pensato che avessi bisogno di una piccola mano? Vabbè, abbiamo cazzo! No, no, no! Carlo, stai attento! Carlo, stai attento! Carlo! 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 Salvati, almeno tu! Cosa succede? Vedo che hanno sistemato molti bug in questa versione. Lo ho capito, ma è un incubo. Non c'è stato un momento in cui sono stato tranquillo. Che vuole lui? No! E allora! Perché tutti mi devono menare? Mi sono rotti il coglione! Vieni qui! Vieni qui! Un dilofosauro, dai! No! Ce ne troppi! No, il veleno! Allora, ammetto che... Magari sono un po' arrugginito con Ark. Ero riuscito a fare un po' di roba, ma... Non lo so, mi sembra diventato super difficile. Ok. 40 euro per giocare lo stesso gioco, non riuscire a gioinare i server, con gli stessi bug, però una grafica più bella. Ah, fanculo! Ah, oh! Cazzo!